mi trovo nel resort benvenuti ragazzi in un nuovissimo video come potete vedere sta diluviando ma ciò non mi ferma da farmi una passeggiata con l'ombrello prestatomi dal resort come vedete flip flop ai piedi costume da bagno e la paura di bagnarsi non c'è direzione viewpoint che vi ho mostrato nello scorso video della spiaggia hans georgette il viewpoint in questione si chiama top of the mountain quindi penso che dovremmo arrivare in cima a quella montagna che si vede un pochettino nella nebbia davanti a noi e speriamo che si veda qualcosa purtroppo quale se iscele sanno un posto estremamente tropicale estremamente con una vegetazione fitta e grossa la pioggia abbastanza una costante però come potete vedere maniche corte con pantaloni corti e ciabatte e sto quasi già sudando dal caldo in ogni caso ci stavo pensando adesso nonostante all'interno di questo resort ci sono circa 5 600 dipendenti e un migliaio di clienti sono l'unico in giro quindi probabilmente saranno tutti chiusi in camera a me non me ne frega niente sono in vacanza e così si fa top of the mountain dovrebbe essere vediamo se riesco dovrebbe essere lassù in cima sto arrivando nulla mi fermerà dalla mia missione anche se le condizioni non sono proprio proprio il massimo non so se si vede ma adesso lo vedrete qua praticamente devo guardare un pochettino l'acqua tuttavia acqua piovana quindi mi preoccupo relativamente poco però come potete vedere la quantità di pioggia che sta cadendo da due ore a questa parte è abbastanza nessuno sta giocando ovviamente a golf e nessuno c'è in giro un'altra cosa che mi fa ridere è che praticamente ho beccato un po di personale del resort vabbè guardate che figata si creano tutti sti fiumiciattoli dovuti alla pioggia che rendono il tutto ancora più bello comunque dicevo tutto lo staff del resort che mi vedeva in giro mi faceva mi chiedeva se mi fossi perso e gli ho detto che volevo fare semplicemente una passeggiata tutti preoccupati io non capisco è soltanto pioggia comunque per tutti quelli che ce lo staranno chiedendo non sono io un pazzo ma quando uno va in vacanza ai tropici esiste il caldo tropicale come la pioggia tropicale quindi è abbastanza normale comune che in posti come possono essere seychelles maldive comunque qualsiasi posto locato ai tropici ci sia grosso caldo con grossa pioggia ovviamente ripeto nonostante la pioggia come potete vedere sono in maniche corte pantaloncini corti flip flop e comunque sto sudando potete capire quanto caldo è è scesa un po rispetto a stamattina invece di 34 gradi sono 32 però è comunque molto caldo questo cartello ormai lo conosciamo bene da questa parte proseguendo dritto andremo a anglo jorget beach dove siamo stati appunto gli scorsi giorni mentre oggi noi andiamo a fare il trail top of the mountain che è su di qua e via che si parte nulla ci può fermare neanche la pioggia ovviamente giusto per puntualizzare un minimo sta solo piovendo non c'è un temporale non ci sono raffiche di vento non ci sono né tuoni né lampi né fulmini è per questo che mi sto avventurando altrimenti sarei stato come tutti gli altri ospiti chiuso in camera giusto per precisare io non ho idea di quanto ci voglia perché mentre per andare a anglo jorge ce l'hanno detto che più o meno erano un 20 minuti io non ne ho la minima idea di quanto possa durare questo trail resumo ripeto che dobbiamo arrivare lassù in alto ipotizzo un quarto d'ora da qua venti minuti però però sapere in tutto questo spero vivamente che l'audio si senta abbastanza bene perché questa pioggia è fastidiosa come vedete zero vento proprio zero zero vento guardate quasi l'heli stop ma sembra il campo da golf di prima evidentemente qua in mezzo si potrà fermare l'elicottero e c'è anche quella capannina con la panchina molto invitante ma noi andiamo dritto qua sembra che il sentiero finisca però li vedo un cartello blu leggiamo cosa c'è scritto penso che debba proseguire però già si può vedere un piccolo spoiler di cosa ci aspetterà e direi che non ho fatto bene a venire di più quella che vediamo la in basso è la spiaggia di hans georgette dove siamo andati nello scorso video e questa quella partenza per una buca da golf che presumo vedendo come sono disposti la partenza che sia di là quindi immaginatevi che da qua bisogna tirare la pallina laggiù in fondo ripeto perché non so giocare ma è da pazzi cioè saranno tranquillamente 400 500 metri di distanza e qua c'è il calanco però noi abbiamo un obiettivo andare top of the mountain direi che qui viewpoint pensavo in realtà io fosse tutto sentiero cementato invece non sarà facilissimo dietro tutte le cose difficili c'è sempre qualcosa di bellissimo innanzitutto quasi un cartello attenzione il che non non è per niente simpatico si può cadere perché come vedete qua siamo comunque belli alti quando messo un'altalina e questo qua è ufficialmente il viewpoint ammetto essere un po deludente rispetto a come me lo aspettavo però al suo fascino proviamo a metterci seduti tanto vi ricordo avere il costume no devo ammettere che è abbastanza rilassante si vede il mare laggiù si vede la montagna immaginatevi avere questa vista sarebbe davvero un sogno comunque siamo poco più in alto dalla buca che abbiamo visto prima quindi pensavo fosse molto più difficile invece è stato molto più semplice del previsto raggiungere appunto questo punto di interesse mi sono messo 20 minuti a guardare il panorama non so se riesco a farvelo vedere ma laggiù c'è anche un'isoletta mi sono messo qua totale silenzio si sentono soltanto le onde del mare immersi nella natura davvero io non so cosa dire meraviglioso ovvio se ci fosse stato il sole sarebbe stato molto più bello perché probabilmente la vista sarebbe arrivata molto più lontana purtroppo piove e non ci si può fare niente si riparte salutiamo l'altalena fantastica con la vista stupenda torniamo giù con molta calma verso il resort con molta calma perché non pensavo fosse un trail nella giungla proprio ma essendo che è una cosa venduta dall'hotel ricordiamoci che io vendo le flip flop diciamo non è la scarpa adatta per fare un trail in montagna tuttavia io pensavo fosse in cima in cima in cima alla montagna invece è da questo versante di qua e il che non sto dicendo che è brutto guardate cioè guardate dove mi trovo quindi non posso dire che è un posto brutto però mi aspettavo di avere una visione più ampia del mare si riparte verso resort verso camera verso casa anche per sono appena scivolato come un pirla perché ovviamente l'ho detto centomila volte l'erba dei campi da golf non so se avete presente quanto è tagliata sottile tagliata fine ci sono perfettamente scivolato sopra tutto regolare tutto nella norma siamo adesso arrivati al famoso cartello che abbiamo tanto visto in questi giorni dove ci dice i trail e noi sappiamo perfettamente che andando lì si va al resort ma mi è venuta una malsana idea perché non tornare alla spiaggia più bella di tutta praslin ovvero di tutta l'isola visto che se l'abbiamo due passi e l'abbiamo appena vista dall'alto dal viewpoint vuoi non andargli a dare un'occhiata quindi ci avventuriamo direzione alla spiaggia questo qui allungherà il percorso di circa una mezz'oretta 40 minuti ma sicuramente meriterà devo ammettere che trovarmi qua da solo con tutta questa vegetazione che copre la poca luce che c'è un po' mi terrorizza in tutto questo siamo quasi ufficialmente arrivati perché il rumore del mare si fa fortissimo siamo sempre in questo panorama seiscelliano laggiù dovrebbe esserci ufficialmente l'ingresso della spiaggia qua siamo nel punto dove ieri vi ho fatto vedere tutti i granchi che si nascondevano e come potete vedere tutta una pozzanghera infatti oh madonna non so se riuscite a capire quanto è alta mi dispiace un sacco per tutti i granchi che avevano la loro casetta qua perché probabilmente avranno dovuto cambiare casa detto ciò io spero non ci siano buchi qua sotto né animali né nulla perché ammetto che mi piace poco siamo ufficialmente arrivati la spiaggia che abbiamo visitato nello scorso video e la possiamo vedere parecchio diversa il mare è estremamente estremamente arrabbiato oggi ovviamente non c'è nessuno perché soltanto un pazzo farebbe il bagno con questo tempo ammetto che il suo fascino ce l'ha comunque sono contento di essere venuto fin qua per vederla ans georgette beach col temporale ripeto sono venuto fin qua solamente perché non tuona e non lampa altrimenti non sarei mai venuto neanche fin qua ma neanche al viewpoint non sarei proprio uscito dalla camera sono felicissimo di essere qua anche con la pioggia non me ne frega niente sono proprio felice di essere in questo mondo magico in questo posto magico direzione hotel ufficialmente si torna è stata una bella passeggiata anche con la pioggia non è assolutamente un problema adesso la cosa più brutta che mi tocca fare è questo guado qua che è la cosa che ammetto mi fa un pochettino più schifo perché l'acqua torvida non so è l'unica cosa che mi convince poco laggiù possiamo vedere un altro pazzo due pazzi che come me hanno deciso di fare una passeggiata come vi ho detto ans georgette è una spiaggia abbastanza diciamo chiusa e quindi chi è del resort può raggiungerla tranquillamente a piedi facendo questo percorsino che abbiamo visto mentre chi non è del resort o deve pagare per per venirla vedere con la barca oppure deve fare come hanno fatto quei due che ci ho parlato un minutino scavalcare a piedi tutta questa montagna con un trail che dura all'incirca tre orette loro erano venuti qua per fare il bagno io gli ho detto mi raccomando non fatelo perché le onde sono molto alte speriamo mi ascoltino ma si potevano aspettare sta diluviando insomma si torna sempre dove si è stati bene e infatti siamo proprio al nostro cartello che ci dice che di qua si torna al resort quasi è arrivato però voglio farvi vedere questa curiosità essendo che il sentiero è tutto vicino un campo da golf mettono un cartello di fare attenzione a che se quella luce lì è accesa qualora fosse accesa bisogna fermarsi finché non si spegne perché potrebbe arrivarti una pallina da golf in testa e ovviamente è pieno di questi cartelli dove dice vietato fumare perché ovviamente essendo nella foresta non è al massimo concordo pienamente di non fumare mai dove c'è il verde meglio non fumare proprio però se proprio dovete non fumate mai nei boschi e soprattutto non gettate mai nessuna sigaretta per terra perché non va bene è un piccolo gesto per noi ma non ci costa niente siamo ufficialmente rientrati all'interno del resort come possiamo vedere dal sentiero le luci le casette dietro questo qua è il welcome pavilion ovvero diciamo non proprio la reception ma la reception della reception è una cosa che non mi era mai capitata di vedere in un resort sicuramente è comodo col taxi arrivi là ti prendono i bagagli e poi ti portano con un baggi tipo le macchinine da golf verso la reception vera e propria intanto nel mentre che cammino vi ricordo di lasciare like se il video vi è piaciuto iscrivervi al canale perché usciranno molti video prossimamente vi ricordo che questo qui è solo il mio secondo giorno e ho già fatto mille avventure diverse che vedrete tutte sul canale alla fine di questi giorni qua a praslin mi muoverò nell'isola di ma è che è la capitale dove anche lì ci saranno altrettante attività da fare quindi controlla al volo se non sei ancora iscritto iscriviti mi raccomando ci tengo ho guardato un fiume stagno brutto per farti vedere la spiaggia di hans georgett con la pioggia quindi muoviti iscriviti se ti piacciono questi video fammelo sapere con un commento che ci tengo molto per me molto importante vorrei iniziare questo nuovo percorso in parallelo al mio lavoro perché amando così tanto viaggiare sicuramente questa tecnica del fare video può essere una tecnica molto buona per spingermi a fare più avventure strane avventure che magari normalmente non farei l'ho iniziato diciamo con questo con questo preconcetto ovviamente non ho nessuna aspettativa se non condividere la cosa che amo di più al mondo quindi viaggiare e soprattutto lo faccio anche perché avere tutto un background sul canale con tutte le proprie esperienze i propri viaggi può essere sicuramente qualcosa di molto bello da riguardarsi in un futuro prossimo detto ciò io sono quasi arrivato io vi saluto al prossimo video ciao